Un vero e proprio anticipo d'inverno, certamente inaspettato visto il lungo periodo di siccità che ha interessato la pianura padana, una manna quindi anche per la qualità dell'aria che respiriamo. Come ampiamente previsto nei giorni scorsi, da ieri sera a quote alte e da stamattina anche in città sono scesi i primi fiocchi di neve. La protezione civile aveva emesso, a ragione, un'allerta meteo valida 24 ore per un impulso improvviso di aria fredda che sta interessando l'Emilia Romagna. La situazione più critica è prevista sull'Apenino Bolognese, dove gli esperti si attendono nevicate abbondanti fino a 80 centimetri. Criticità rossa a livello di ramato, che ha portato alcuni comuni a tenere chiuse le scuole quest'oggi e in effetti la neve sta scendendo molto abbondante. Allerta anche per forti venti, calo delle temperature è stato del mare con onde che a largo possono arrivare fino a 4 metri. A Bologna città la neve ha cominciato a cadere a buon ritmo intorno alle 10, pioggia mista, neve è stata registrata nel Fentino, nel Cesenate e in pianura nel Bolognese. Nevica sulle zone collinarie appenniniche della regione, nevica sull'Ai45 in alcuni tratti dell'autostrada del sole tra Bologna e Firenze. Vento forte su Ferrarese e Ravennate. A Ravenna, per il vento che sta superando i 40 nodi, è stato sospeso il traghetto tra Marina di Ravenna e Porto Corsini. Disagia anche al traffico, la situazione più grave sull'autobrennero a causa di un metro pesante finito fuori strada.